Il nostro viaggio di approfondimento in merito alla calasia esofagea continua con il collegamento con Giacomo Frisoni, lo studente classe 95 che ci illustrerà i contenuti della sua tesi di laurea magistrale premiata dalla conferenza di presidenti e direttori dell'Università di Scienze e Tecnologie e anche in merito al progetto dell'Osservatorio sulla consapevolezza digitale e qualità di vita. Vai Giacomo! Ciao a tutti, ringrazio Alessia per questa opportunità. Sono Giacomo Frisoni, ho 25 anni e sono il presidente dell'Osservatorio su consapevolezza digitale e qualità di vita di AMAE, Associazione Malatica e Calasia Esofagea. Sono uno studente PhD presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche dell'Università di Bologna e nella vita mi occupo di ricerca, ricerca in ambito di intelligenza artificiale applicata all'elaborazione e comprensione automatica del linguaggio naturale. Ho incontrato la Calasia Esofagea nel 2016, a 20 anni, durante il terzo anno di università e da quel momento la mia vita è cambiata sotto molteplici aspetti. Lo smarrimento e lo sconforto della diagnosi di malattia rara e la successiva presa di coscienza della mia nuova realtà di vita mi hanno portato a indirizzare gli studi verso una nuova finalità, ovvero quella di trovare, di costruire delle risposte a quel punto interrogativo che il medico mi disegnò con l'indice sul tavolo il giorno in cui domandai che origini avesse questa malattia, un punto interrogativo che io e la mia famiglia ci ricorderemo sempre. E trovandomi di fronte a questo muro ho scelto di non assumere un ruolo passivo nei confronti della malattia stessa, ma vederla come un'opportunità per aiutare me stesso e gli altri. Cercando informazioni in rete, spesso difficili da reperire per noi malati rari, mi sono imbattuto per la prima volta nella storia di Celeste, del gruppo Facebook da Lei Gestito e di Amare. Questo incontro casuale ha effettivamente acceso in me una lampadina e in questa occasione infatti mi sono reso conto del valore delle comunità online di pazienti, oggi in continua crescita. Il bisogno di dialogare con altre persone aventi la medesima patologia è spesso una naturale conseguenza della volontà di abbattere le barriere di isolamento in cui si rinchiusi e i contesti social diventano il mezzo attraverso cui si condividono esperienze, si richiedono pareri e si scambiano informazioni di indubbia rilevanza durante tutto il percorso di un malato raro. E vedere un continuo susseguirsi di domande spesso condivise su vari argomenti e il conseguenziale innescarsi di lunghe conversazioni nei commenti mi ha portato a riflettere su tre punti. Il primo riguarda l'elevato valore di queste informazioni, poiché raccolte direttamente dai pazienti, dalla loro vita quotidiana, informazioni spesso anche non raccontate ai medici, che difficilmente dispongono del tempo e dei mezzi per ascoltare le nostre considerazioni e testimonianze su molteplici tematiche, ma informazioni che sono fondamentali per una maggior comprensione della malattia. I lavori di ricerca attuali si basano su un punto di vista clinico, ma è obiettivo anche dell'Unione Europea da qui ai prossimi dieci anni realizzare una transizione verso sistemi che vedono il paziente al centro. La seconda questione riguarda il quantitativo di questi dati. Decine e decine di post pubblicati ogni mese da oltre dieci anni con centinaia di interazioni per sascuno. E stiamo parlando solo del nostro gruppo, che oggi conta più di 2000 persone, di un solo paese e di una sola malattia. Immaginate l'ammontare di questa conoscenza su una determinata patologia, anche se rara, considerando tutte le comunità esistenti. Ecco, questi dati vengono sistematicamente ignorati e persi nel tempo. Le domande si ripetono e ci si dimentica delle risposte date in passato da altri pazienti caregiver. Inoltre, quando ci si trova nel vivo della malattia, nel momento di massima manifestazione dei sintomi e ancora non si è svolto il trattamento per poterli attenuare, al bisogno di raccogliere quante più informazioni possibili su una problematica di interesse, si aggiunge il problema di riuscire a farciò in tempi brevi. Tuttavia, gli strumenti di information retrieval cui abbiamo accesso oggi non sono in grado di rispondere a tali esigenze. E leggere manualmente decine di migliaia di post è ovviamente insostenibile. Il terzo e ultimo punto si focalizza sul modo principalmente utilizzato dai ricercatori oggi per effettuare una raccolta dati da pazienti, ovvero questionari composti da una serie limitata di domande, tipicamente risposta chiusa, a causa della frequente impossibilità di valutare manualmente testo libero. Tali questionari consentono di ottenere risposte solo a domande a cui si aveva già previamente pensato, così come le risposte stesse che sono condizionate da uno schema prestabilito. Inoltre hanno un costo, si rivolgono a una platea di pazienti limitata e consentono di ottenere risposte ovviamente solo da dopo la loro sottomissione in avanti. Quello che ho fatto nella mia tesi magistrale e quello di cui mi occupo tuttora a livello di ricerca è proprio questo, offrire soluzioni per la gestione di questi tre aspetti. In parole semplici, oggigiorno l'elevata velocità nella produzione di contenuti sul web fa sì che sia sempre più difficile rimanere allineati su tutti gli sviluppi legati a un certo tema, come le pubblicazioni scientifiche per una patologia o le opinioni prevenienti direttamente dai pazienti. Ecco allora che sorge il bisogno di strumenti capaci di evitarci la lettura manuale di questi documenti, di farlo loro al posto nostro, di estrarre la conoscenza in essi racchiusa e di rispondere alle domande di medici ricercatori, oltre che di pazienti. I miei contributi vanno proprio in tale direzione e mi hanno valso dei riconoscimenti sia per la tesi che per le pubblicazioni, dove abbiamo recentemente ottenuto un Best Paper Award, che per chi di noi fa ricerca è un premio importante e ci dà la carica e lo stimolo per andare avanti in tal senso. Partendo da oltre 70.000 post e commenti pubblicati dai pazienti sul gruppo di AMAE dal 2009 a oggi, totalmente anonimizzati ovviamente, ho realizzato un sistema in grado di estrarre e rappresentare in pochi minuti tutta la conoscenza racchiusa in essi. Immaginate di voler sapere quali siano i sintomi più diffusi tra i pazienti, i trattamenti più efficaci secondo l'esperienza diretta dei pazienti, gli alimenti più problematici, che cosa questi abbiano in comune, i centri di riferimento, come l'efficacia dei trattamenti cambia nel tempo, dove una macchina ha già letto tutti i messaggi al posto nostro e ci fornisce una risposta sulla base di tutto quello che oltre 2.000 pazienti e caregiver hanno detto nel corso di 10 anni, quindi sull'aggregato. Mi piace pensare che il mio lavoro sia quello di catturare e custodire la voce dei pazienti. Quando ho conosciuto MAE, ho trovato una realtà alimentata da poche persone accumulate non solo dalla malattia, ma anche dal nobile intento di spendersi nell'aiutare gli altri. Una realtà che si prodiga nella realizzazione di progetti, nell'abbattimento di ostacoli, nel trovare risposte, nel creare ponti tra pazienti, caregiver, medici e ricercatori. Per questo ho deciso di impegnarmi nell'associazione, rendendomi disponibile, nel mio piccolo, nel supportare l'inseguimento di questi obiettivi in cui credo fermamente. Come dicevo all'inizio, l'organo consultivo di MAE che rappresento è l'Osservatorio su Consapevolezza Digitale e Qualità di Vita. Perché Qualità di Vita? L'Osservatorio è orientato a diffondere conoscenza sulla calasiesofagea e a produrne di nuova. Collegandomi a quello che vi ho detto sinora, intende registrare tutto quel patrimonio esperienziale emerso dal confronto costante con malati e caregiver, in particolare capitalizzando i risultati emersi dal gruppo social ed evitando la loro dispersione nel tempo. E nel farciò, l'Osservatorio si riferisce sia a fattori concreti dalla vita quotidiana di un paziente, quali alimentazione, attività motorie e trattamenti medici, che ha quelle dimensioni sociali, emotive e psicologiche in grado di condizionare la loro quotidianità. Perché invece Consapevolezza Digitale? Perché un importante elemento da tenere in considerazione è proprio la comunicazione medico-paziente e paziente-paziente, come pure il racconto di malattia e di cura. La responsabilizzazione digitale dei pazienti è inevitabile nel momento in cui ci si approccia a un contesto così articolato come quello dei social network, dove, infine ultimo, è costruire delle dinamiche dialogiche positive. Come avrete immaginato, le tematiche di indagine che si possono affrontare con strumenti come quelli che vi ho descritto sono molteplici e multidisciplinari, data la natura poliedrica della conoscenza stessa. Di conseguenza, all'interno dell'osservatorio, ci prefiggiamo il coinvolgimento, da ampio spettro, di studiosi e professionalità da competenze molto varie a seconda dei progetti attualmente in carico. Con questo mi congedo, torno a ringraziarvi per lo spazio che mi avete dedicato e colgo l'occasione per esprimere la mia più sincera gratitudine a Celeste e a Cristina che mi hanno accolto, che vengo in me, dandomi fiducia e senza le quali nulla di tutto quello che vi ho presentato sarebbe stato possibile. Un abbraccio a tutti e a presto. Un abbraccio a tutti e a presto.